Ciao a tutti, sono Niese e oggi volevo fare questa nuova apertura. Mi è ripresa voglia di aprire carte Pokémon, bustine Pokémon, dopo aver visto il video di PokéShiny soprattutto, perché ha iniziato ad aprire la box intera di questa serie e quindi mi ha fatto rivenire voglia. Avevo già idea di comprarle, però non sapevo bene quali carte, se ci fossero carte che mi potessero piacere oppure no, e poi mi sono andata a informare e ho visto che ce ne sono diverse, molto belle, su Gardevoir e Mega Gardevoir. Questa è la versione Shiny, ad esempio, che è davvero bella se non sapete la storia, tra virgolette. Questa Shiny dovrebbe essere la vedova per questa vestita in nero, mentre quella bianca sarebbe la sposa. Comunque vabbè, poi c'è i Veltal Fantastico come Break, come Turbo, eccetera. Poi c'è Xerneas, poi sono i nuovi che sono Maggi Arna, pure molto belle, le Full Art. Poi c'è la Full Art e la X, insomma. Poi c'è il nuovo Vulcanion, mi sembra. Comunque, niente, diciamo che inizio ad aprire. Non probabilmente non troverò niente, però giusto per iniziare così. Poi ci sono quelli doppio tipo, pure molto belle, come carte. Quindi andiamo a vedere. Inizio con una di queste, con i Veltal. Ah, poi ci sono i nuovi tipi qua, i nuovi giochi di Sole e Luna. Questo è Vulcanion. E qua ci sono alcune, ecco sì, Vulcanion. E ci sono alcuni tipi, questi sono i doppio tipo. E questi sono le Turbo, alcune Turbo. Allora, ho salvato il pacchetto, guardate che pacchetto perfetto. Penso che pochi riescano a salvarli così, fantastico. Vi regalo questo codice, eccolo qua. E iniziamo subito col primo pacchetto in assoluto che apro di Steam Siege, oppure Vapori Accesi, come è in italiano. Allora, c'è Nidoran Maschio, fantastico. C'è Chimchar. Nospas. Litwick. Scusate, sono un po' arrugginita. Dino. Vabbè, andiamo avanti veloci, va. Ok, questo è fantastico. Uh, c'è un'altra Nidoran Maschio, come Reverse. Oh mio Dio, no, vabbè. Cioè, il primo pacchetto è tra una ex, Stilix. Cioè, ragazzi, guardate che fantastico. No, vabbè, è meraviglioso. Ok. In love with this... Sono innamorata di questa serie, è fantastica. Oh mio Dio, Stilix, giusto, c'era anche Stilix. Anche Mega Stilix. Fantastico, guardate. Primo pacchetto, prima ex. Bam, mitico. Secondo codice per voi. E andiamo col secondo pacchetto di MegaGarde Warshiny. Che qua vado veloce. Clefki. Ecco, questa per esempio già ce l'ho da un altro set, però l'hanno rifatta identica per questo. Non capisco... Cioè, potevano fare un altro artwork, secondo me, almeno. Poi qui c'è la Reverse e una normale. Weavile, rara. Quindi qua, tranquillo, niente di che. Ora, ultimo pacchetto. Ok, altro codice. E andiamo con l'ultimo pacchetto. Drifloon, che è molto carina. Questa non piace tantissimo l'artwork. Piano, monkey, inferno, inferno, vabbè. Fluffy, poi Fletchinder e... E una rara tranquilla, vabbè. Poteva essere una holo, ma ok. Ci accontentiamo, dai, per la prima apertura. Quindi, concludiamo questa prima apertura con questo fantastico Stilix X, che sono troppo contenta di aver trovato nel mio primo pacchetto, soprattutto. E niente, sto ancora contentissima per questo. E continuerò probabilmente a prendere le forze, ora vediamo. E voglio assolutamente quelle di Gardevoir e quelle di Mage e Arna, soprattutto. Mi piacciono un sacco. E Stilix pure è fantastica. Anche la mega di Stilix è veramente bella. E niente, quindi la fuori serie, soprattutto, fantastica. L'ha trovata poche e è veramente stupenda. E questa mi piace un sacco. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like se volete che io continui questi video. E se vi è piaciuto e se siete contenti per me che ho trovato questa X. È veramente stupenda. Ora l'andrò subito a mettere al sicuro. Presto farò un nuovo giveaway, lo sto già preparando. Datemi qualche consiglio su quali premi vorreste avere nel giveaway, insomma. Ah, e non so se farò un giveaway o un contest, ma probabilmente per i 10.000 un giveaway e poi un contest. Detto questo, vi mando un bacione e un salutone. Vi ringrazio per aver visto il video. Spero che vi siete divertiti con me e io vi mando un salutone e ci vediamo alla prossima. Ciao!